Ciao a tutti, oggi vi volevo fare un videotag le 50 domande che mi è stato richiesto da, io mi scrivo tutto su foglietti se non mi dimentico da SuperGiulia03 la volevo anche salutare perché è una mia iscritta che mi segue tantissimo quindi le mando un bacione perché è molto simpatica anche, poi sì, questo è il videotag vi avviso subito che non vi rispondo lo chiudo la porta io sempre non chiudo la porta prima, mi dimentico sempre comunque vi voglio avvisare che no, non risponderò a tutte le domande perché sì, vabbè allora, me le sono salvate sulle immagini come si può vedere non si vede niente, vabbè allora prima domanda pensi di essere bella o bello? non so decidete voi che ne so poi pensi di essere simpatica? sì poi pensi di essere intelligente? abbastanza, sì sì, penso di essere intelligente poi poi aspettate metto bene la webcam poi il tuo segno zodiacale? vergine poi sole o pioggia? sole stagione preferita? allora l'inverno perché c'è Natale ci sono le vacanze di Natale è bellissima anche se a me piace molto Halloween ma le vacanze di Natale sono speciali poi cioccolata bianca o nero? dipende mi piacciono tutte e due quindi tutte e due più facile ridere o piangere? ridere io sono una che ride spesso ma molto spesso quindi ridere recita una frase di un film non saprei non mi ricordo poi che stai facendo? sto facendo il video delle il tag 50 domande poi che domanda stupida questa scusate se ve lo dico ti curi nel vestire? no perché mi vesto sempre con le tute mi butto rivestiti mi vesto rivesto tanto a me non mi frega mi curo tanto le unghie se per questo perché mi piacciono ma nel vestire no non mi curo poi quante volte ti lavi i denti? due volte al giorno la sera cioè pomeriggio no scusate tre volte al giorno la mattina dopo la colazione pomeriggio dopo il pranzo e la sera dopo cena poi ti arrabbi facilmente? no hai qualche vizio? no un comportamento che ti dà fastidio? un comportamento che mi dà fastidio? essere lagnosi oppure sì essere lagnosi poi sei superstiziosa? no no anche dipende ma no no non sono superstiziosa quale persona non smetteresti mai di vedere le mie amiche? poi sei mai stata innamorata? no credi nell'amore? boh poi perché è fallita la tua ultima relazione seria? mai avuta hai mai avuto il cuore spezzato? no hai mai spezzato il cuore qualcuno? no ti sei innamorata del del tuo migliore amico? no poi siamo alla 25 per ritenere il conto hai mai amato qualcuno senza dirglielo? no hai paura di impegnarti seriamente? no hai avuto più di 5 relazioni serie nella tua vita? no è tutto no qua poi ti manca qualcuno ora? però sì la mia coniglietta che è morta purtroppo poi sei felice? sì poi stai mangiando qualcosa? no ti piace qualcuno? no il giorno più bello? la giornata a Gardaland quest'estate poi il giorno più brutto? nessuno l'anno migliore? bella domanda forse fufufufufu non so no non so già festeggiato il tuo compleanno? sì il 5 settembre fatto diete? mai poi fatto le ore piccole? quasi ogni sabato e domenica per sì vabbè sempre le faccio perché non riesco ad addormentarmi prima delle 11 quindi vado nel letto alle 11 e mezza verso mezzanotte poi mi sbisigo col cellulare e vado a dormire intorno alle 11 di sera quindi eh sì alle 11 a luna di sera quindi sempre faccio le ore piccole poi trampeggiato? mai no sì quando ero scusate quando ero piccola andavo sempre in Sordegna in vacanza adesso non ci vado più poi ti sei mai lasciata condizionare? molto facilmente no scusate molto difficilmente no cioè non mi sono mai fatta condizionare da nessuno io penso sempre sulle mie cose poi hai abbracciato qualcuno? sì poi hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? no può darsi bu comunque tutti commettiamo degli errori quindi sì hai sofferto per un'altra persona? purtroppo sì hai viaggiato all'estero? sì l'ultima persona che hai abbracciato? il mio cane il mio cagnolino Pongo poi l'ultima persona che hai chiamato? Denise l'ultima persona con cui hai gridato? non so la tua parola preferita? qua potrei modificarla invece che la tua parola preferita è la mia frase preferita la mia frase preferita è yes I can poi c'è una vita c'è una vita dopo la morte secondo me la parte del corpo che preferisci? gli occhi mi piacciono gli occhi poi per cosa ti batteresti fino alla morte? non so per tutto quello che faccio ok niente questo era il video tag le 50 domande ci sono state 8 minuti e qualcosa ed è troppo e niente spero che il video tag vi sia piaciuto grazie per l'attenzione e alla prossima ciao ciao